Il nostro tizio mascherato, il nostro shotino di fiducia Il nostro sogno erotico proibito, anzi più che altro il sogno erotico proibito di Yuma Azzas, pure in questa auto sportiva, la faccia, hai vista? Piena di led Mamma mia Sì sì, non vi preoccupate, abbiamo fatto già tutte le missioni secondarie Quindi ce ne possiamo andare Bellissimo Ciao miss, buonasera Non ho la patente, che coincidenza, neanche io Dovete sapere che adesso mi sembra in mente Saccarosa, no? Che guiderà quest'auto senza la patente Vai Saccaroso, vai Donna al volante, pericolo costante Poi vorrei vedere te che guidi, visto che c'è così tanta voglia di farlo Vabbè a me la, a me guidare non piace Quindi onestamente a me avere la patente o meno, fregancazze Buonasera miss Sì si è levata giù senza tempo Oh, però la sa portare l'auto Ok, mi sa che sta accelerando Mi chiamo, guarda Oh Yuma tranquillissimo Sembra inerboso Senza cintura Eh Sei andato dritto nel cuore del territorio nemico Allora, se questa parte del capito dovesse risultare bella Raga, faremo live fino alle 2 di notte Se dovesse risultare bella La dimostrazione di questo laboratorio Vediamo, vediamo Ha torto la maschera, hai visto? Però non possiamo ancora vedere, è solo Comunque, raga, a me Esteticamente mi ricordo un botto Yuma Cioè, se scopriva che Yuma è praticamente Il clone, no? Del boss L'omuncolo Del boss Mi metterò a ridere Eh no, Giudi, poi si rivenerebbe l'effetto sorpresa Eh no, sarebbe una mossa troppo intelligente Vabbè, Steffi che si va a spoilerare le cose cercando su internet Non cercate fan art Sì, ragazzi, ma non cercate fan art su internet Vi spoilerate le cose Ragazzi, io, per farvi capire Io non apro Instagram Ma non apro neanche YouTube Per farvi capire C'è già avuto fortuna di trovare solo fan art non spoiler No, ma pure io amo essere ignorante Ci vedrebbe nel sangue butelle un paio di cadavere decapitate Dei minchia Quelli già, ragazzi Nelle copertine di Raincode Alcuni stronze americani hanno messo gli spoiler Ti ho detto tutto Con la faccia che hai Cos'è? Mi fa capire che allora è veramente una sorta di clone Del boss Intanto noi siamo andati in questo laboratorio Con estrema facilità Ah, cioè Anzi È l'edificio della Materasu Cioè, tutto tranquillo Vedremo adesso nel laboratorio Sì, perché poi non è che li vado a cercare io Cioè, YouTube mi consiglia i video di questi stronzi Perché giustamente dice Visto che ti piace Raincode O che so Sui ritori Raincode Ti consigliamo questi E dico, va andate a fare in culo Per fortuna non ho beccato nessuno spoiler Anzi, forse qualcosina Però non ho voluto approfondire Ho subito schippato E comunque non era uno spoiler di trama Però Può sempre rovinarsi l'effetto sorpresa Ok Andiamo a dirigerci al laboratorio Eh, si vede che Sadik Gli spoiler se li mangia a colazione Per odio Più che altro La mia rotondità formicola tutta Potrei prendere il codore del tuo corpo E tornare in agenzia al tuo posto Ah, nel caso del cadavere Se domande falle ora Non ci sarà tempo Quando arriveremo al laboratorio Quando già sappiamo, no? Che alla fine faremo tutte le domande Che posto è il laboratorio segreto? È letteralmente un laboratorio che è segreto Ma vaffanculo Makoto Veramente, vaffanculo Vaffanculo Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Vaffanculo Vaffanculo Questa è Questa è l'obietà Questa è la sua città E la società Che in grado Nascondere le loro ricerche Questa è la sua scopiare Questa è la sua scopiazione Per il nostro lavoro Ma Il segreto. Ok ragazzi, il dottor Huesca sarà quello a morire. Quanto ci vogliamo scommettere? Dovranno essere affrontati, vabbè ci scappiamo molto sicuro, pure a sto giro. Ah ecco perché ci ha chiamati qui, per ispezionare. Quindi ti ha portato qui per nascondere la reale motivazione della visita. Alla fine lui ci usa sempre. Questo secondo fine. Questo tipo è pericoloso. Credo che abbia ancora rivelato la sua vera motivazione e io non sarò il suo agnello sacrificato. Figuro che non lo sarei. Ah, dice ma lei è davvero il CEO dell'Amaterasu Corporation? Dubita ancora di me? Hai qualche problema con il mio aspetto? Preferiresti che fossi un vecchio con il riporto? Mi immagino di poter fare una maschera così. Oh, altre maschere! Che tipo di maschere, Makoto? Questa maschera ha le sembianze di un dio venerato da una tribù di Bora Bora che vive vicino all'equatore. Ragazzi, informazioni importanti. Ah, è diventato un CEO tre anni fa. Sono venuto qui per motivi di lavoro. All'Amaterasu. Ho svolto bene un incarico e da un momento all'atto sono stato nominato a CEO. Eh, qual'è questo incarico? Puoi diventare CEO. E non ci dice nulla. Eh, vabbè. E niente, proseguiamo. Ma che lui non edica nei world? Se resti in un posto per tre anni ti c'ha affezioni. Ma... ma anche no. Si dice che persino le coppie che si innamorano di solito si lasciano entro i primi tre anni. Eh... Infatti il saccaro se l'ho lasciata ma ancora non lo sa. Ci sono dei pacificatori nel laboratorio segreto? Naturalmente sono ovunque. Eh, vai! Eh, la so che è ridotto ma comunque ci stanno. Ma che si dà il giallo che non si può essere ma anche ii oi. Ma che se dice che per dirai, poi poter'r sui poter il per dirai. lo so che si tratta per dirai? Eh, è davvero poter'r sui poter'i non si scoppi. Ma che voglia viva per dirai. Ma che si so, ma che non è successo. Ma che si sarebbe quella di questo? Ma che ha fatto un po' Ah, hai capito Amora? L'ho lottato con quell'altro stronzo per la leadership della Materasso. Top? All'epoca Yomi era un membro dell'elite, si dava per squandote che sarebbe diventato il prossimo seio. Aaaaaah, ma alla fine Yomi l'ha preso nel culo! Eh, sarebbe andata pezzo, sta città. Nessuno si aspettava che l'avrei superato, ottenendo io quello ruolo. C'è qualcosa che dovevo fare in quanto seio? Eh, la lunga storia, te la racconto un'altra volta. Eh, ovvero, mica Kodak può giocarsi tutte le sue cartucce in un colpo. Se io mi credi che abbia imbroghiato, da loro mi odia a morte e ci va giù sempre più pesante. Il suo precedente è morto in un incidente. Eh, ma in realtà pensa che è stato nostruoso ad ucciderlo. Eh sì, Yomi, hai capito benissimo. È solo un'ipotesi, no? No? Secondo me è proprio così. Cioè, per il futuro di Kanaiward non può ottenerlo... Non può lasciarlo a piede libero. Ah, a me sembra strano tutto questo attaccamento per questa città. E ci ricambi vorrebbero altri cadaveri. Non so perché, ma ho la sensazione che il peggio debba ancora venire. E lo pensavo anche noi. C'è il morto, raga. Eh sì, è il morto, Yuma. Il morto, Raga, raga. Ho tre anni, raga, tre anni il caricamento Voglio dirvi solo questo Allora sei il mio abile segretario Poi sapete che di solito in molti cliché il capo si tromba sempre la segretaria Quindi Makoto dovrà trombarsi Yuma Ho paura di questa cosa Ci fate tutti Ci fate tutti sta ship Dai, non perdiamo altro tempo e visitiamo sto laboratorio del cavolo Eccolo, eccolo Tanto i personaggi che appaiono e scompaiono Il cancello è stato lasciato aperto Normalmente non dovrebbero esserci così tanti pacificatori Ragazzi, il morto, eccolo Evviva Chi sarà morto? Quel dottore che avevo detto io? Mi hanno scoperto, no, non è così Semplicemente stanno indagando sul luogo del delitto Facificatore scurrile Eccola C'è morto qualcuno Ah, no Due pacificatori di guardia al cancello sono stati attaccati da qualcuno Guarda la sua faccia C'è la sua maschera Si tratta di un intruso? Secondo me Ragazzi, è il master detective che non ha tanto a poche di vivere Qui dici che è Lara, Rubin, ma io penso che è più l'altra Oh no Già arrivato Eh, ma? Siamo stati scoperti Eh, siamo letteralmente fottuti Eh, vai, vai Siamo morti? Nel momento peggiore Tutto tranquillo Ciao Yomi, sei arrivato al momento giusto C'è l'emergenza Un intruso è superato il cancello Non dirmi quello che so già Brutto pazzoide mascherato Vedere che ti occupi personalmente delle cose è davvero raro E vuol dire che L'intruso non è da sottovalutare Torna sulle nuvole a leggere poesie in bagno Ma che cazzo Ah, quindi Ho capito Makoto Mentre caga Legge la poesia Va bene Chi è che non lo fa? Ti darò una mano Che cosa? In che senso, Makoto? In che senso? Ti darò una mano Ma a leggere le poesie O a fare altro in bagno? Cosa? Forse è un problema Problemi di stichezza magari E vai Mettici il dito nel bucchetto del culo Magari Magari Si Stimola La defecazione Ah Il supporto alle indagini Ti avevo capito male Cos'è? Una specie di tregua? Bene, accetterò la tua offerta di pace Credi davvero che lo direi? Non mi serve il tuo aiuto Io ho il potere I numeri e il carisma Per superarti in ogni modo È certo Sì, certo Io intanto non sei stato selezionato Come sei Quindi sinceramente devi stare zitto Al posto tuo Tu non sei nella posizione Di dare ordini Al grande Yogi L'ammetto Non è il potere I numeri e il carisma Però intanto ho vinto io Ma qui? Ah Ma avete visto Cosa ha fatto? Cioè Si è puntata alla testa Eh, ha puntata al cervello Sì E se prendo Questo intruso Prima di te Tu prendere l'intruso Non fai merito Abbiamo a che fare con Fink L'artista della carnificina Ah Il famoso sicario È qui È qui È qui per ammassare qualcuno Stai Stai mendagando da giorni Ah, vabbè Gli butto ovviamente La lettera a terra Ragazzi Che abbiamo detto? Il dottor Huesca Deve pagare con la vita Per i suoi peccati La mia lama Sarà la sua espiazione Però ho detto Che ci sarebbe Scappato il morto Con il dottor Huesca Una minaccia di morte No 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 Dambussa è firmata artista della carnificina a caratteri cubitali In cerca di attenzioni come una ragazzina Come saccarosio No Oh non parlate di trappole Perché lo tsu è numero uno Parla pure pagliaccio Le tue parole sono vuote come la tanzucca Noi pacificatori prenderemo il sicario Se mi garanti dell'ordine gli faremo vedere chi comanda Si hai capito Steph esattamente Rimani fuori dai piedi Non vorrei rovinarmi le scarpe calpestando un mucchio di merda Delicatissimo E anche un poeta Mamma mia E poi è lui che legge le poesie mentre va a cagare Ecco Sicuro ti potevi catturare il sicario per primo Come non è il tuo lavoro ma è il mio Ma che cazzo si è Ma è pazzo Lo sapevo L'altro per salvare il laboratorio liberamente sono tre piccioni con una favola Manco due ragazze Era questo il suo obiettivo durante lo scambio di battute con Yomi? Se fosse così non è una persona qualunque capisco perché lo consideri inquietante E ancora non mi fido di lui Vabbè c'è il Gami che ci suggerisce di scappare Sì infatti siamo da quasi un'ora qua dentro Entrambi in questo cacchio di laboratorio Oh finalmente Guarda però guarda come corre Eeeh Wow ragazzi Bellissimo Vabbè ora staremo tre anni così Non potendo correre E infatti che delusione di laboratorio Aspettavo qualcosa tipo l'Umbrella Corporation da Resident Evil Ma ci porta qui Non si vedono mostri immortali Ragazzi ma comunque non me la racconta giusto No perché al momento è proprio una delusione Come laboratorio segreto Ok andiamo dal dottor Uesca prima che venga accoppato dalla sicario Sì ma tutto troppo liscio ragazzi Troppo liscio Un robottino Ma che Emilio Il robottino che aveva da sciotino Eh Infatti guarda è un robot giocattolo L'ho detto Emilio Oddio Infatti è qui il robot giocattolo intendo Ma ne ha uno anche lui Ma cosa mi dice che il robottino ci servirà per risolvere il caso La butto lì La telecamera sulla testa può connertesi al display di un dispositivo E può essere anche controllata da remoto Possete anche un microfono interattivo E può portare pesi fino a 100 kg Secondo la pubblicità resiste ai bambini più scalmanati Ed è tanto robusto da sopportare il peso di un elefante Eh infatti proseguiamo ci stiamo perdendo troppo in chiacchia Ok si entra Vedi che ci sta area 1 A volte ci sta anche un area 2 Un area 3 Il laboratorio ad alto rischio del Toruesca Si chiude Con un protocollo di sicurezza molto rigido Chiunque cerca di entrare senza prestare attenzione Sarebbe in grave pericolo A me è complesso Però qualcosa mi dice che il sigaro Riuscirà ad entrare e ad uccidere il dottore Quindi il dottore Dove prima contattarlo tramite lì Vabbè L'interfono Amore guarda Oh madonna Abbiamo trovato Abbiamo trovato i dead di pesefi Chi osa disturbare i pensieri Delle mie sacre cellule celebrali Sembra un dialogo da te Ragazzi ma si dice cellule celebrali o cerebrali? Eh infatti In effetti ma sono chiesto Eh vediamo se qualcuno sa la risposta D'età è una stronzata A indovinare Penso la R no? Esatto Brava Quindi hanno sbagliato Perché le cellule cerebrali intendono le cellule del cervello Capito? Se lo sappia si dice cerebrali Esattamente Rubicante Ah bello mi fa la sub per questa risposta Bello no? Bello bello Rubicante ora si comporta Come fanno Gli utenti dei famosi Che devono per forza fare sub Sub giftate E beats Per poter essere Letti no? Quindi pensate un po' voi Ah grazie Grazie comunque Grazie comunque Gruppia Come chi diavolo sei? Ma ragazzi Ma scusa Ma questo non sarebbe il capo della materasso Ma si facesse rispettare Ah Dottor Weska Perché capisco male? Oltre a togliere la maschera O mi presento qualcuno Di cui possa vedere la bocca Perché proprio la bocca E non la faccia Dottor Weska Infatti perché non si toghi la maschera? Gli unici umani con cui te la capis bene Sono le giovani ragazze Vero padrone? Di quello che è da dire In meno di dieci parole Nel mirino di un sicario Devi rifugiarsi In un posto sicuro Peccate che ha superato Le nove parole Hai superato il limite di parole E basta così Non tornare più Dai ragazzi Questo ci crepa tra poco Si dice che sei in questo laboratorio Da mesi senza vedere nessuno È proprio un Ikikomori E come la leggenda È la grotta della pietra sacra Ma c'è solo un modo Per farlo uscire E non si tratta Di una danza Appassionale È questo Ha capito amore Si è messo a Diciamo A bussare Con insistenza Sei proprio una purcia fastidosa Cosa c'è? Vuoi essere l'obiettivo Di una nuova arma da testare? Ah lo sa già Ha ricevuto una lettera Ragazzi il dottore Sta ancora qua Ragazzi il dottore è ancora qua Intrattiene con la cultura Interessante però Comunque lo scienziato Non ha tutti i torti Dice che dove sta lui Sarebbe il posto più sicuro Però Questa cosa mi dice Che il sicario Sarà capace Di entrare Lo stesso Chiunque prova a entrare Senza aver messo Diventa una cavia Da laboratorio E ora che avete capito Subiettivo di farmi Perdere tempo Preziosa Ma non ha capito Che ci morirà Ma non ha capito Ricerca sospetta Si riferisce agli omuncoli Come lo facciamo a raggiungere Allora Puoi provare a entrare con la forza Me ne scressi la vita Non si vengono subito uccisi Sarebbe banalissimo Rubino Io voglio sperare Che Kodako Non abbia pensato A sta minchiata Eh eccessivo si Che ora ci spiega Come funziona Il sistema di sicurezza Allora Questa è un'altra informazione Importante Sicuro Siamo nella cosiddetta Camera anteriore È come un ingresso Per il laboratorio Ad alto rischio Non è davvero chiusa Puoi attraversarla liberamente Una volta superata Quella porta Dovrai attraversare Tre camere Prima di arrivare Al laboratorio del dottore Le tre camere Sono in ordine La camera stagna La camera dei gas tossici E la camera dei pannelli O cosa mi dice Che dovremmo superare Queste camera Per proseguire Allora Dopo la camera anteriore C'è la camera stagna La camera stagna Non è particolarmente pericolosa Si tratta di una stanza ermetica Come avrei capito dal nome Al suo interno C'è un grande dispositivo Di decontaminazione Installato su una parete Serve a evitare perdite Dalla camera dei gas tossici Quindi grazie alla camera stagna Il gas non uscirà mai E poi c'è quella dei gas Se qualcuno entra mentre Il sistema di sicurezza attivo Tutta la camera Si riempie subito Di gas tossico Mortale Ma che cazzo Ma che cazzo sta da dire Cioè Volevo mettere i sonnifri La dottora ha detto No Dove mettero un gas mortale Ah bello Non funzionano Anche se è stato in fiato Penetra nella tua pelle Non esiste alcun rimedio Efficace Questo gas è uno degli errori Del dottore E' efficace Solo in una camera stagna Perché all'esterno Si disperde facilmente E poi si riempiegano Del tempo a diffondersi Il corpo Quindi non è una morte rapida Comunque si muore di sicuro Entro 30 minuti Nessuno Può evitare quel destino Lo scato temporale E' un altro motivo E' considerato un errore Ragazzi Ah Senza l'H Eeeh L'ha tradotto Saccharose No Non l'ho tradotto io L'avrà tradotto Uno Che non è italiano Sicuro Si ragazzi Se mi tenere conto ancora del tempo Adesso giro 30 minuti Chiunque cerchi di entrare con la forza Avrebbe bisogno di una tuta spaziale Dice che il gas ha ucciso davvero chiunque E' terrificato Oddio ragazzi Questa è la stanza dei 9 pannelli Ma pensando nell'ordine giusto Si apre la porta Solo il dottore conosce l'ordine La chiave è conservata nel suo cervello Neanche i computer possono analizzarla Inoltre se calpessi il pannello sbagliato Vedi fulminato dall'alta tensione L'intrusso viene arrossito Prima ancora di accorgersi di essere nei guai Cioè il dottore ha modificato tutto Per ammazzare chiunque Cioè il dottore ha modificato Cioè il dottore ha modificato Superate i 9 pannelli basta premere l'interrottore E per qua c'è il dottorino Vedete che è anche una lavatrice Siamo che dovremmo spiegare Come Cioè come il colpevole Si è riuscito a entrare A superare i spettacoli Eh sì ma infatti sono curioso Io spero che sarà anche bello tosso da capire Nel laboratorio c'è un pulsante Che si attiva tutte le misure di sicurezza Usa quello quando deve uscire Ecco perché è ancora vivo Perché è ancora concentrato Su una ricerca in laboratorio C'è un bagno e una doccia Oltre a cibo e acqua in abbondanza Che poi si è rimesso una torta sul divano eh È così proprio Sì sì si è messo a comodo Mentre ci spiega tutto Ma ha parlato di grande progetto Che poi è stato chiuso Ma cosa mi dice che è la ricerca degli Omunculus Noori eccolo L'altro è un bagno è un bagno L'altro è un bagno è un bagno Ancato ai confidini Un bagno Vabbè certamente Il sicario si farebbe prendere da te con estremo facilità. So che è stato tu a inviare quella minaccia di morte, Makoto Katsuchi. Cosa stai tramando? Perché sei qui? Infatti, vuole parlare soltanto col dottore. Cosa stai tramando? Mi sentirò Eh, vedi, è estremamente fiero Scortatelo gentilmente fuori Assicuratevi che possa ancora parlare Gentilmente Ci sono tante cose che devo chiedergli Sì, cazzo, ma non ha senso Parliamo comunque del capo, della materasso In coincidenza, anche io speravo di fare una bella chiacchierata con te Va tutto bene, non preoccuparti Andiamo solo a parlare un po', torno subito Con questo pazzo Cosa sei tu? Non sei un abitante di Caneworld e non sei nemmeno un tec Che senso ha la tua esistenza? Di pischelli Nooo Mi aspettavo di tutto Ma il termine pischelli addirittura Che romana Mi hai detto così, miserabile e bello Sarò a guardarti per un po' Che stronza Pensate una cosa Pensate una cosa Questa roba mi ricordo un po' Fanno a fantasy Sì 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 Non è compagno adorabile qui Incompensa Eh lo so Shigami però Per dire questo dovresti essere nella forma umana Umana tra virgolette Spero che mi colpiscano meteora Me too Ok Delle ore sono sicuramente passate E' ora del campo di turno Oh no No Mi vuoi torturare? No Ma già so chi sono Eppure io Allora sicuramente lo sciorino trasformisse Quell'atto invece presumo Seppure che leggi libri E' stata stabilita la tua condanna Sarei condannata a morte Sì Ma sappiamo benissimo che lo sta prendendo per il culo Sì Dile il nome della ragazza che te lo sciorino Ah così Avremmo detto che è lo sciorino Oh Ah l'altro è il capo Fino un attimo Allora chi è la ragazza che ti piace padrone? Perché lo vuoi sapere Shinigami? Ora non importa Infatti perchè voi siete qui? Dimmi cosa ci fai qui Stavo indagando su quel laborato segreto eh Ah ok Stavo facendo lo spiegone Quindi quel seo mascherato era coinvolto Mi sapete che fossi così agitato quando sei tornato alla giusta Eh bello i giapponesi sempre fissati con l'amicizia Eh infatti perchè loro sono qua? Infatti perchè siete qui? C'è arrivato questo dopo che hai lasciato l'agenzia Il dottor Huesca deve pagare quella vita per i suoi peccati Alla mia lama sarà la sua spiegazione Infatti perchè è stata mandata adesso pure a loro? Ah magari sapete una cosa Secondo me il Sigaro sta cercando di far nascere dei casini no? Per poter raggiungere facilmente il dottore Comunque non c'è niente da fare Cioè Huesca si scrive così Però io Io sento sempre Huesker In maniera similiare Ehm Ehm Ma magari non lo vuole fare Magari era solo per dare sospanza Infatti questo Fink Manda minacce di morte tutta la città Questo rende più difficile uccidere l'obiettivo I pacificatori hanno incrementato la sicurezza E' un po' come l'Uper Che ad ogni colpo Invia sempre una lettera Perché ama le sfide impossibili E' capito Ma il Dottor Wesco non vuole collaborare Non vuole uscire da lì La battaglia per il dottor Wesca prende forma La concorrenza è molto aggredita Ma possiamo fregarli tutti Procediamo dopo 3000 dialoghi Vogliamo farti rispettare le tue preferenze Ti farò sembrare una signora pacifica Tutta per te No Ah deve prendere la borsa Oddio Proprio a quei due Non finirà mai di stupirmi A questo servono i fratelli Yes Ah A questo servono i fratelli A questo servono i fratelli Non finirà mai di stupirmi Non finirà mai di stupirmi